1 maggio con le serpie San Domenico a Cocullo, nell'Aquilano, in una delle feste popolari più caratterizzanti e famose al mondo, in cui il rito pagano si intreccia con la devozione cristiana. In questa occasione, in cui la devozione per San Domenico, protettore dal morso dei serpenti, si fonde con il rito arcaico dei serpari, cioè dei manipolatori dei serpenti, nel suggestivo quanto unico rito dei serpari, il piccolo paesino si popola di migliaia di pellegrini e devoti, oltre ai curiosi che immancabilmente prendono da sedio una devozione antichissima. La Stata del Santo viene portata in processione, addobbata con serpenti innocui e aggrovigliati al capo appunto di San Domenico, tra cui saettoni, cervoni, biacchi. I cosiddetti serpari raccolgono proprio nei monti attorno al paese i serpenti al loro primo risveglio dall'etargo. Prima della processione sono mostrate ai visitatori che possono toccarli e maneggiarli, vincendo così paure ancestrali. La processione si snoda per le strette vie del paese in una suggestione che riporta indietro nel tempo, nel rito cristallizzato da centinaia di anni e che resiste intatto, con i cocullesi bravi a non subire le contaminazioni di una notorietà che in altri casi avrebbe modificato serpi, santo e devozione. Il centro studi intitolato ad Alfonso Maria di Nola, il primo antropologo che studiò a fondo il rito diffondendolo, ha promosso un interessante convegno dal titolo Il rituale delle serpi come bene intangibile, sicuro prologo all'inserimento di San Domenico e le sue serpi tra i beni culturali da preservare da parte dell'UNESCO.